Ufff, nuova generazione di processori Intel e qui abbiamo un pacco da Asus che ci permetterà di spiegare un pochettino meglio la situazione Finalmente qualcosa è cambiato anche nella casa blu, non ci sono più i Raptor Lake Vediamo un pochettino di spiegare tutto Ok, vediamo un pochettino questo pacco Uff, pienissimo, infatti pesava un botto Ah ma è proprio un car package, cioè è un pacco speciale Ok, 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 diamogli un'occhiata Wow, figo Ma raga, ma è proprio un pacco speciale Che figata Guardatelo È bellissimo Guardate il front Questi sono strap Mamma mia Oh ma che pacco hanno fatto? Ma che? Mannaggia ragazzi, sono qui che provo ad aprire questo pacco ma non riesco ad aprirlo Sapete perché? Perché non avete lasciato like a questo video Si aprirà soltanto quando arriveremo ad almeno 500 Ah, mannaggia Eh, dovete proprio lasciarlo, se no andiamo avanti qua L'avete lasciato? Mi raccomando, è importante What? Oh, ma mi ha mandato la Hero Ma raga, ma ha fatto un pacco bellissimo Ma parliamone un secondo, scusate Ma qua hanno fatto un pacco pazzesco È incredibile Allora, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Oddio, da questo piccolo messaggio mi viene da pensare che effettivamente si possa in qualche modo ottenere questo car package Almeno forse in America Interessante Allora, cosa abbiamo? Abbiamo una scheda madre Z890 Ovviamente nuove schede madri In questo caso non ci sarà retrocompatibilità con le generazioni precedenti Si inizia con gli Intel Core Ultra 200 E saranno compatibili soltanto i processori Harole Anche perché è cambiato il socket Assolutamente abbandonate le DDR4 finalmente Ma soprattutto potete vedere che l'LGA è 1851 EPCI 5.0 Wi-Fi 7 E tutte le caratteristiche delle ultime generazioni Però con appunto un socket differente Leggermente più grande Allora, Z890 Diamole subito un'occhiata Veniamo accolti con un po' delle novità principali Hanno messo anche qui la quick release per quanto riguarda l'SSD E anche il quick launch e release per quanto riguarda appunto la scheda video Ok, interessante Poi vediamo la scheda Allora, prima di tutto non ha la busta La classica busta È proprio già pronta qua Allora, bellissimo il design Sicuramente corazzatissima Andiamo un pochettino a vedere le caratteristiche Siamo su un modello top di gamma Quindi giustamente due porte da 8 per l'alimentazione La scheda madre segue con una porta supplementare anch'essa da 8 Vi faccio notare la doppia porta USB-C su questo lato invece E molto particolare la parte degli SSD Perché a differenza di quelli che abbiamo visto fino ad ora sulle X870 Funziona così Togli quello e se lo richiudi si blocca Mentre così si sblocca e lo togli E hai accesso alla tua zona degli SSD Sperando che in questo caso ci siano meno complicazioni per quanto riguarda gli SSD a doppio strato Però vedremo un attimino dopo Gigantesco e cospicuo numero di porte nella zona qui inferiore Come potete ben vedere sono veramente tante Però di per sé Sì, rimane in linea con le X870 Vediamo un attimino invece l'input output E la madonna Ma quanto pesa sta scheda madre No, raga, ma ha un peso specifico sta scheda Pesa quanto un case Saranno almeno due chili? Guardate qui dietro quanto metallo Quanto! What? Allora, per quanto riguarda la zona dell'input output Devo dire che è piuttosto ricca Abbiamo tre USB-C Di cui una da 10 e due da 40 con Thunderbolt In questo caso Possibilità di fare BIOS flashback Clear CMOS Due porte Ethernet da 2.5 e da 5 gigabit Per quanto riguarda la connettività Wi-Fi 7 anch'esso con la quick release Cioè si possono staccare e riattaccare le antennine senza problemi E anche in questo caso abbiamo la zona audio ridotta a tre porte Con appunto quella digitale e due invece canoniche Allora, per essere un Xtreme Devo dire che è un pochettino più scarna Rispetto alla ProArt che abbiamo visto sul mio canale in precedenza Come X870 Però vedremo un attimino come sono anche le altre Comunque è veramente impressionante la corazzatura dei VRM E delle zone dove sia necessario avere dissipazione Veramente, veramente grossa e imponente Dopodiché abbiamo il ROG Ryujin 360 ARGB Xtreme Sapete che la linea Xtreme di ROG ormai indica appunto le versioni massime 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 In questo caso con LCD appunto le loro nuove ventole Come potete vedere nuovo modello Molto più carino esteticamente Che ha anche la Daisy Chain magnetica Kuminti si apre Molto bellino questo packaging a cassetti Che si estrae Qua abbiamo il nostro cassetto estraibile Con immagino le tre ventole Vediamo subito Eh sì Oh ma queste sono anche più spesse Pallese Ventola devo dire molto molto bella Esteticamente finalmente sono arrivati in linea anche quelli di ROG Come potete vedere sembra essere una 30 mm E bella bella spessa questa qua Estetica molto accattivante Molto molto bella Bravi Devo essere onesto Ho paura del prezzo di questo dissipatore Perché sicuramente sarà altissimo Packaging molto molto simile a quello della Azov Xtreme Con anche tutte quante queste parti di personalizzazione extra Questo ve lo faccio vedere poi montato nel video In cui magari lo testiamo insieme ai processori e cose varie Però molto carino Ma vedo che le sorprese non sono finite Qui abbiamo un'ulteriore zona Anche questa è un cassettino Attenzione cosa c'è qua Cosa c'è qua Ah Importantissima La pasta termica di ROG Quella per fare le cose a forma di ROG Vi prego basta Vi prego non ne posso più ne ho due Se ve la ricordate sapete perché io stia ridendo Qua hanno messo delle fascette Probabilmente qua ci sarebbe stato a giudicare dalla forma il processore Eeeh Oh 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 Fermi tutti Delle RAM Delle RAM Cosa siete? Vediamo subito Sono delle DDR5 CUDM Trident Z5 CK Di Gskill Ma da quanto? Copriamolo insieme Sono delle RAM da 8200 MHz 48 GB Ma siete pazzi? Ma sono pazzi duri? 48 GB 8200 MHz L'unico problema qui è che io non ho altri banchi da 48 Quindi non posso effettivamente essere sicuro Che la capacità non stia influenzando positivamente o negativamente La percentuale di prestazioni che ne derivino Ma 8200 MHz siamo così spavaldi? Ok vuol dire che questa generazione forse scala Lo proveremo ovviamente nei test Figata Asus Grazie mille E ovviamente lo rivedremo quando arriverà il momento di recensire questi processori Ma parliamo un pochettino di questa nuova generazione di CPU di Intel Come se la cava abbiamo anche un po' di analitica Quindi Nuovi processori Nuova nomenclatura Come avrete capito abbiamo abbandonato gli i3 i5 i7 i9 In favore degli Intel Core Ultra Per il momento 5, 7 e 9 In questo caso avremo la nuova generazione Che partirà con quelli che solitamente sono i classici modelli K Però è cambiata completamente la nomenclatura Non siamo più nell'ordine delle decine di migliaia Ma nelle centinaia Precisamente questa sarà la generazione Intel Core Ultra 200 La prima della sua stirpe E soprattutto un grande passo avanti anche in alcuni termini tecnologici per Intel Visto che finalmente hanno portato lo stacking 3D anche su desktop Arrow Lake Quali sono le premesse? Allora come potete vedere c'è una forte attenzione per la performance per watt Quindi quanti watt vengono utilizzati per raggiungere una determinata performance Con un package power Quindi tutto quello che è compreso all'interno del processore Ridotto di circa il 40% Un incremento generazionale delle performance multi-thread del 15% o maggiore E poi dicono Tutto questo mantenendo le performance in gioco Che è un'affermazione che mi fa un pochettino stare male Perché vuol dire che questi Intel Core Ultra 200 Dovrebbero attestarsi in termini prestazionali Nei dintorni esatti della generazione Raptor Lake Esattamente come Ryzen 9000 e 7000 Il che mi fa paura Però dobbiamo dargli una speranza ragazzi Perché dobbiamo vedere un attimino sul campo poi come se la cavano In questo caso è soltanto l'annuncio Onesti a dire questa cosa Devo essere onesta a mia volta Non hanno esagerato numeri per poi perderli Stanno imparando nel marketing Per quanto riguarda la user experience Poi ci sottolineano ovviamente l'infinita presenza di accelerazioni IA Anche se devo essere onesto Intel è quella che probabilmente ha fatto meno propaganda E contemporaneamente ha fatto più per il mercato di intelligenze artificiali Con OpenVINO e soluzioni analoghe di altri concorrenti Poi abbiamo le XE LPG Che sono le nuove GPU integrate all'interno dei processori Con appunto low power Quindi sono molto molto efficienti E infine ci sottolineano come le temperature Si possono ridurre di fino a 10 gradi circa Nell'ambito del gaming Il che è molto interessante E già un riscontro positivo anche nei confronti di Ryzen 9000 Che fa più o meno la stessa cosa Allora Arrow Lake Qua ci spiegano un pochettino meglio le cose che abbiamo appena detto Quindi abbiamo la stessa performance di Raptor Lake R Con però metà della potenza Quindi di per sé c'è stato un forte lavoro nell'efficienza per quanto riguarda Intel Cosa molto interessante perché vuol dire quindi che A parità di Watt dovremmo ottenere delle migliori performance Oppure a parità di performance dovremmo avere appunto Un'efficienza migliore fino al 50% La nuova generazione di Core si chiamano Skymont Per quanto riguarda gli Core E Lion Cove per quanto riguarda i P-Core Ma ci torniamo Con poi l'attrezzatura di Foveros Che come potete vedere costituisce questa zona monolitica Però poi divisa in più parti al suo interno Una tecnologia particolare appunto di Intel Che fino ad adesso si era vista soltanto nel contesto del mobile Qui ci dicono già un po' di informazioni per quanto riguarda le performance Con da una parte gli Core di Skymont Che avranno un IPC uplift Quindi un incremento a parità di IPC Di instruction per clock del 32% Veramente notevole per gli Core Visto che sono comunque solitamente la parte di Core Dedicati principalmente all'efficienza Il fatto di poter lavorare così tanto bene Molto molto buono Due volte il bandwidth per quanto riguarda la cache L2 E un incremento del 9% in termini di PC Sui P-Core con Lion Cove Rispetto alla generazione precedente Interessante ma ovviamente questo 9% Mi sembra confermare più che altro le parole che abbiamo appena sentito Ovvero che probabilmente ci sarà un incremento sul multitread Dove si andrà a beneficiare anche di un incremento sotto la decina percentuale Ma al tempo stesso Mi fa pensare che appunto nel gaming Possiamo aspettarci delle prestazioni abbastanza simili A quelle che già possiamo annoverare al momento sul mercato Fattore su cui poi Intel dovrà combattere In termini di prezzi, qualità, stabilità della piattaforma O eventualmente bundle, abbinamenti E chiaramente temperature e consumi Qui sotto possiamo vedere un pochettino dei miglioramenti Che sono stati fatti principalmente nell'ambito per esempio Dell'intelligenza artificiale Come hanno diviso tutte quante le parti degli engine E come appunto sia migliorata la situazione In termini prestazionali effettivi E ovviamente c'è anche questa nuova divisione dell'architettura Che è molto importante Allora qui potete dare un'occhiata all'interno Di come saranno costituiti questi processori Aroli Come dicevo era una soluzione che precedentemente è stata applicata più che altro Nel mondo mobile, adesso arriva anche sul desktop Foveros Praticamente abbiamo un tile di base Su cui poi si inseriscono tutti i singoli pezzi Tutte queste mattonelle effettive di potenza Che andranno a gestire singolarmente Ognuno ha una funzione Abbiamo una GPU tile Un IO tile Un filler tile Che semplicemente penso sia per una questione strutturale Un SOC tile E infine la zona più grossa Dove appunto sono contenuti PCore, Cache e Ecore Che è il compute tile Ora Quella sarà anche probabilmente la zona più energivora Quindi sono curioso di sapere Se è un po' come è successo appunto con AMD Effettivamente il dislocare la zona Che richieda la maggior parte della potenza all'interno del package Possa in qualche modo influire positivamente o negativamente Su quella che è l'esperienza di dissipazione Perché comunque i dissipatori rimangono sempre con la stessa forma Ovvero delle mattonelle di rame nickel Che si applicano sopra direttamente al nostro IHS del processore Andando quindi a stretto contatto Ma avendo quindi una disposizione Una distribuzione esclusivamente di forma E quindi di per sé non andando a bersagliare Nello specifico in una determinata zona Rimane da vedere però se in questo caso effettivamente ci sarà la possibilità Per esempio di avere degli shift nei dissipatori Come visto con il più recente arrivato bestione di Noctua Il D15 di seconda generazione Qui possiamo dare un'occhiata a quella che è il compute tile Ovvero la zona contenente i core Come potete vedere ci sono dei PCore maggiori Con una dimensione appunto più grande 8 in totale quindi questo è probabilmente 285k E poi potete vedere che ogni core ha la sua cache dedicata In aggiunta a quella che poi è la cache L3 Con il simbolo del dollaro non so se si pronunci less O comunque non saprei per il momento Comunque ad ogni modo c'è la cache in comune Che potete vedere molto molto grande La L3 E poi sia gli core che i PCore hanno della cache L2 dedicata Cosa che in teoria a logica dovrebbe suggerirmi Che ci saranno degli episodi di latenza nettamente minori Per quanto riguarda questa generazione Stiamo a vedere un pochettino anche come avranno lavorato lì E poi questa cosa si rifletterà ovviamente anche in termini Semplicemente dell'esperienza del framerate Zona della GPU Questa è molto 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 interessante Per più motivi Prima di tutto è la prima eGPU Che veda all'interno di un processore desktop Che possa vantare delle zone di ray tracing dedicate 4 unità alla fine non sono tante Vorrei capire più che altro a cosa servano Con ovviamente migliorie per tutto tutto quanto Non credo sia una GPU sufficiente per poter fare del gaming Ma staremo a vedere Ditemi nei commenti se vi interesserebbe Un video dedicato appunto alle possibilità di queste eGPU Per quanto riguarda invece la zona del AI Sappiamo che adesso è un punto cruciale Però ovviamente Intel deve offrire anche a sua volta Quelle che sono le sue possibilità Quindi gli Intel Core 200S Offriranno una prestazione in termini di tops fino a 36 Sommando quelle che sono le prestazioni di CPU, NPU e GPU Ora, ognuno andrà a svolgere i propri calcoli specifici A dare supporto in base alle necessità E alla tipologia di calcolo Su questo poi magari ci torniamo Però una cosa che secondo me Qui è molto onesta da parte di Intel E farvi vedere come l'abbinamento di una GPU Dedicata effettivamente in questo caso Crei un forte sbilanciamento nei suoi confronti In termini prestazionali Dove si può arrivare fino a 260 tops Cosa che mi continua a far dire Che effettivamente i processori Forse non siano la macchina ideale Su cui adagiare dei calcoli AI Specialmente in termini di memoria Visto che in questo ambito Vi dico anche per esperienza personale Addestrare un'IA è molto molto complicato E richiede tanta VR Un'occhiata veloce alla line-up ragazzi invece Come potete vedere abbiamo il 285K 265K 265KF 245K E 245KF Quindi il top di gamma Avrà a prescindere la iGPU Mentre il 7 e il 5 possono non averla Frequenze Siamo abbastanza in linea Con quella che era la generazione precedente Nel senso che a grandi linee siamo nei loro dintorni Tolto il 265K Che mi prende l'occhio Perché vabbè Fa 5.5 GHz massimi Mentre il 14700K Ne faceva 5.6 Niente di esageratamente sbagliato Comunque La cosa che però sicuramente salta all'occhio Che dovreste notare È che non ci sono più i multi-thread Infatti come potete vedere 24 sono i core 24 sono i thread 20-20 20-20 14-14 14-14 Intel per motivi di sicurezza Sembra aver optato per l'hyper-threading rimosso E in questo caso Per la prima volta abbiamo di nuovo dei processori Che non hanno appunto il multi-threading È una situazione abbastanza particolare Bisogna vedere se effettivamente Influisca positivamente o negativamente In quella che è la possibilità di utilizzo del processore Però siamo qua 24 core per il nostro ultra 9 Con 8p core e 16e core Accompagnato dall'8 più 12 del 7 E dal 6 più 8 del 14 Quindi effettivamente tolta la parte dei thread Potete notare come per il core count Non ci siano delle differenze con la generazione precedente 9, 7 e 5 sono uguali a i 7, i 9 e i 5 Quindi di per sé siamo esattamente in pari su quello Frequenze anche abbastanza simili Cambia la presenza ovviamente dell'NPU Che andrà a svolgere dei calcoli dedicati all'intelligenza artificiale Utile fino a una certa estensione Perché non tutti hanno bisogno ancora di questo ambito Ovviamente ragazzi come vi ho detto Questa generazione si baserà fortemente sul concetto di efficienza Qua ci propongono alcune differenze con la generazione precedente Come per esempio il fatto che in alcune tipologie di calcolo quotidiane Dall'IA alla produttività d'ufficio Cinebench o anche semplicemente una chiamata di zoom I processori della nuova generazione possono arrivare fino a un meno 58% Di richiesta energetica nel momento in cui si parla degli stessi task E delle stesse performance Rispetto al 14900K Situazione sicuramente interessante Ma vi spiego a fine video la mia opinione Prestazioni Allora abbiamo questa slide ufficiale di Intel Che ci riporta un confronto del 285K Con il 9950X appena uscito da AMD E potete vedere come la differenza ci sia Anche rispetto al 14900K Che viene usato come baseline Ma effettivamente l'incremento Per quanto maggiore Non sia poi così entusiasmante Poi vi dico I quattro programmi che hanno scelto Sono molto particolari Perché sono contemporaneamente molto generosi Con le nuove generazioni In termini prestazionali Specialmente sensibili a frequenze E nel caso di alcuni anche alle RAM Però di per sé ve lo dico Lasciano un po' il tempo che trovano Stiamo a vedere un po' in ambiti più contestualizzati Come per esempio Indigo Renderer e cose del genere Per quanto riguarda il multicore La situazione è un po' più positiva Potete vedere fino a un 19% sul 14900K E delle prestazioni nettamente migliori Anche rispetto a quelle del 9950X Che per adesso in realtà aveva rappresentato Un buon salto generazionale comunque Una delle pochi aspetti positivi Della nuova generazione di AMD In attesa degli X3D Però di per sé Prestazioni che comunque ci sono Bisogna vedere nel mondo reale Se forniscono un effettivo vantaggio O se è una cosa che alla fine Tu possa ignorare Su questo ovviamente Niente te Altro che il tempo E l'utilizzo effettivo quotidiano Ci possono dare una risposta Qui un altro paragone Per quanto riguarda l'efficienza Con appunto il 285K Che si distacca nella curva abbastanza Soprattutto rispetto al 14900K 14900K Bravi Intel Su questo effettivamente La performance per watt qui Sembra essere notevole Anche rispetto ad AMD Che fino ad oggi Ha fatto di questo Il suo cavallo di battaglia Quindi ci tengo a dire Che è interessante vedere Una risposta anche su questo piano Ora passiamo un pochettino Alle note dolenti Auto inflitte da Intel Il gaming Come potete vedere Rispetto al 14900K Il 285K Ha delle performance Non eccessivamente interessanti Nel senso che in alcuni casi Addirittura scende sotto Effettivamente al processore In altri abbiamo una parità effettiva Delle performance Con magari un 1% in più Però in tutto Abbiamo anche qualche miglioria La cosa che sicuramente Vuole sottolineare in questo caso Con delle analisi specifiche Che immagino siano anche un po' Cherry picked Intel E sicuramente che la potenza In utilizzo è notevolmente più bassa Perché potete vedere per esempio Che in Total War Faro Abbiamo un 58W O addirittura un 34W In Black Myth Wokong Quindi di per sé Tolti due titoli Che stanno dando appunto Un pochettino di filo da torcere Al processore Ci sta nel senso È notevolmente più efficiente Peccato un po' Per le prestazioni Perché quando uscirà Il 9800X3D Penso che darà una forte botta A questo processore Sia in termini di prezzo Che di consumi Che di temperature Che di prestazioni Qui abbiamo un confronto diretto In termini di prestazioni E Watt in utilizzo Per il sistema Per Assassin's Creed Mirage E per quanto riguarda Questa situazione Potete vedere come L'Ultra 9 285K Effettivamente faccia 3 FPS in meno Su un totale di 264 Che comunque non sono tanti Possiamo pareggiarli insomma Però utilizza quasi Un'ottantina di Watt in meno Il che è molto positivo Qui possiamo vedere Un ulteriore paragone Praticamente si utilizzano Una media di 73 Watt in meno In 7 giochi Quando appunto Si utilizza un 285K Rispetto alla generazione precedente Diciamo che questa Secondo me È un'ottima risposta A quelle che erano state Le problematiche precedenti Della generazione 14000 E che avevano portato Molte discussioni appunto Su quanto aggressivi Potessero essere I processori di Intel Diciamo che hanno fatto Un po' di ammenda E stanno appunto Cercando di risolvere La maggior parte Delle proprie problematiche Ultimo punto Più freschi Come potete vedere Le temperature scendono Diciamo che È un po' ovvio Perché riducendo La potenza termica In utilizzo Si riduce anche Quella che poi È la temperatura Che ne derivi Però di per sé Ben venga Ben venga assolutamente Cioè nel senso Ci sta Ci sta tantissimo Abbiamo un passaggio Per esempio Da 69 a 52 gradi Quando si gioca A Rainbow Six Siege È una quantità Di temperatura Abbastanza notevole Che più che altro Se ci pensate Rappresenta un po' Quella che è l'escursione termica Per esempio Dal più profondo inverno All'estate Quindi di per sé Si compensa bene Quella che potrebbe essere L'incremento medio Della temperatura ambientale In una stanza Anche in zone Un pochettino più calde Come il sud d'Italia Quindi di per sé Ci sta È un ottimo incremento Per quanto riguarda La qualità del prodotto Prestazioni tecniche Confronto in 1080p Con il 9950X Processore che non avrei preso A paragone Perché devo essere onesto Sì sono due top di gamma Però il 9950X in gioco È abbastanza scabroso Però di per sé Come potete vedere Ci sta Tutto in pari Un po' meno Un po' più Niente di che Nel senso Generazione praticamente uguale A quella precedente E la cosa che però Mi fa pensare È che se ci metto Uno 7800X3D Qui questo processore Viene completamente devastato Nuovamente Altre parti Che rappresentano Principalmente il processo Di efficienza Che è stato migliorato Appunto da Intel Con 125 165 250W Per quanto riguarda I 3 power limit E qui un piccolo riassunto In cui il 265K Viene messo a confronto Del 14900K Con una performance media Del 5% in meno Per quanto riguarda Gaming Fino a 188W In meno Cosa molto interessante Perché effettivamente Potrebbe essere Che questo processore Diventi veramente Il flagship Per quanto riguarda Il gaming di fascia alta Anziché l'i9 Cosa sarebbe finalmente utile E fino a 15 gradi In meno Ovviamente molto apprezzato Infine ragazzi Non sarebbe una presentazione D'Intel Se non si parlasse Di intelligenza artificiale Hanno sicuramente Migliorato quello che è Il contesto di utilizzo Per questo tipo di applicativi Però so anche Che è una parte Che potrebbe non interessare Assolutamente il mio pubblico Perché alla fine Chi vuole fare applicativi IA avanzati probabilmente Sfrutterà una scheda video Particolarmente di NVIDIA Ma al tempo stesso Dall'altro lato Dubito che sentiate In maniera Ancora così incisiva L'intelligenza artificiale Accelerata localmente Più che altro Nelle vostre vite Capisco se parliamo Di strumenti come ChatGPT Che invece vengono accelerati Da server Dislocati E non di proprietà Appunto di chi lo utilizza Però di per sé Per il resto Sono degli applicativi Che sì Migliorano le performance Migliorano l'efficienza E ci fanno approcciare Pian piano ad un mondo Che si svilupperà Sempre di più Però di per sé Vi dico anche Che secondo me Attualmente Parlare di intelligenza Artificiale in locale È una cosa un po' astratta E che anche i professionisti Possono faticare A voler applicare Nel proprio contesto quotidiano Però per il resto Ci sta L'avete migliorato Intel Avete fatto un buon lavoro Su questo L'efficienza È sicuramente Un cavallo di battaglia Ho solo paura Che il 9800 X3D Sarà una cannonata Non indifferente Contro questi prodotti Ultima parte Che vi volevo far vedere È una veloce occhiata Al chipset 800 Per quanto riguarda Questa generazione Allora CPU più chipset Come potete vedere Abbiamo 48 lane totali Di cui 20 PCI 5.0 E 24 PCI 4.0 Distribuite e divise Sulla scheda madre Fino a 10 USB 3.2 Comandabili Cosa che mi fa pensare Che per esempio Un modello ProArt Possa avere veramente Tantissime porte USB A E un insieme Anche per quanto riguarda Tutte quante le porte USB E SATA Abbastanza notevole Nel senso 10, 14, 8 Sono numeri importanti Come potete vedere Per quanto riguarda La nostra parte Quella in basso Abbiamo Thunderbolt 5 Integrata fino a 4 porte Wi-Fi 5 E Bluetooth 5.4 Con poi la Ethernet Che sale a 2.5 E 5 giga In base alla scheda madre Memorie Come potete vedere qua Allora Di base Senza overclock Ci annoverano 6400 MHz funzionali Per quanto riguarda Le RAM Quindi adesso Abbiamo i nuovi modelli Da 48 giga Per dim C'erano già un po' Sul mercato Ma immagino Che questo approccio Più che altro Potenzi le disponibilità Con 96 giga Quindi totali Se prendiamo Due banchetti E fino a 192 giga Di supporto Invece per l'intera scheda madre Con quattro banchi Per il resto Supporto ICC Dual Channel E poi tutte le varie tipologie Di BIM supportati E qui abbiamo infine Un riassunto Come vi dicevo prima Con appunto Tutte le informazioni Che in realtà Vi ho già esposto Per IA Gaming Temperature E appunto La parte di consumi Questi processori Usciranno Il 24 ottobre Quando vi aspetto Anch'io Con la mia recensione Al lancio Per appunto Farvi vedere Tutte le nuove caratteristiche Quindi ricordatevi Di segnarvi Un promemoria Ci vediamo lì Mi servirà Tutto il vostro supporto Perché ovviamente Usciranno tantissime recensioni E noi vogliamo essere Sempre i numeri uno Ci proviamo almeno Garantendovi ovviamente La migliore recensione possibile Onesta e super oggettiva Quindi ci vediamo Al 24 ottobre Con questi processori Ma non vi potrei Lasciare andare Se non parlassimo Ovviamente di prezzi Allora come potete vedere Qui abbiamo la line up Retail Suggeriti Abbiamo 589 dollari Per il 285k Cosa che per il gaming Lo pone un po' fuori Sono sicuro che per la produttività Può essere un prezzo competitivo Più che altro La cosa notevole È la differenza di prezzo Tra l'Ultra 9 e l'Ultra 7 Che come potete vedere Si attesta sui 394 dollari Prezzo che attualmente Praticamente appartiene Al 14700 E con un po' più di soldi Al 14700k Come range Di prezzo A cui ovviamente Vanno aggiunte tasse IVA E cose così Quindi potrebbe essere Una situazione abbastanza gravosa E infine Come potete vedere L'Intel Core Ultra 5 245k Va a 309 dollari E 294 per la versione Senza i GPU Prezzi Devo dire Abbastanza simili A quelli in realtà Di Ryzen 9000 Nuovamente Ci ritroviamo Con una fascia 5 Che è abbastanza Proibitiva In termini di costo Bisogna vedere un attimino Come si attestino in Italia Perché attualmente Il 14600k 14700k E 14900k Hanno subito Un calo di prezzo E con il 7800x3d Rialzato Intorno ai 500 euro E ovviamente Una fascia Per quanto riguarda I 9000x3d Che ancora non sappiamo Come si attesterà E i 9000 lisci Che non offrono Nessun grado di competizione Diciamo che è un po' particolare La situazione E questi potrebbero essere Dei prezzi Comunque in linea Con il resto Però ovviamente Non quello che vorremmo vedere Ecco Diciamo che la competizione Dovrebbe essere Contro un 7800x3d Da meno di 380 euro Per il gaming E quello Dovrebbe spingere il mercato Ragazzi insomma Per darvi la mia opinione finale Io ve lo dico È una generazione Molto interessante Per i consumi Perché effettivamente Ve lo dico Intel stava sgravando Negli ultimi generazioni I consumi erano troppo alti Per quanto si Ci fosse un rapporto Di efficienza Abbastanza interessante Che si poteva rilevare Magari in alcuni ambiti Nel momento in cui Si andava a sfruttare Bene il processore La potenza Era molto più alta Di quella che potesse Offrire appunto Un 7000x3d Nell'ambito del gaming O un 7000 liscio Nell'ambito appunto Della produttività E dell'ufficio generale Di tutti i giorni La performance Nei giochi Ovviamente fa piangere I pc gamer Perché non Stanno supportando Sul mercato Qualcosa di rilevante Nel momento in cui Gli x3d Continuino a uscire Questa è una cosa Chiara a tutti quanti Diciamo che secondo me Gioveranno principalmente Chi lavora Nell'ambito della produttività Di questi processori Perché ve lo dico Nel momento in cui Un'azienda ha 10-15 macchine Con cui lavorano Tanti professionisti Modelli 3d E cose del genere Rimuovere 100 watt A macchina Può essere comunque Una cosa rilevante Nel momento in cui Si decide di fare Un acquisto Di qualcosa Rispetto ad un altro marchio O rispetto ad un'altra generazione Già con 10 macchine E un kilowatt in meno Ogni ora In caso di rendere Estensivi o cose del genere L'efficienza energetica Oltretutto è un argomento Che mi interessa molto Perché ragazzi Ancora il mondo Purtroppo non gira Sul nucleare Ci dobbiamo accontentare Di un mix di rinnovabili Parti fossili E quindi questa cosa Non è assolutamente positiva Dobbiamo cercare di utilizzare Meno energia possibile Fino a che appunto Non saremo liberi Con l'utilizzo di nucleare Cosa che si spera Che arriverà Ben presto Nel futuro Per il resto Fatemi sapere ovviamente Le vostre opinioni Di questa generazione Giù nei commenti Noi ci vediamo al prossimo video Sassati su MordenTech Sanusa